Perché oggi il mondo è così cambiato che dobbiamo sostanzialmente in fondo fare formazione continua, cioè dobbiamo continuare a imparare sempre, non smettiamo più di imparare e purtroppo questa è una realtà che ci portiamo dietro e ce la porteremo dietro per i prossimi anni, una volta si imparava una cosa, si finiva di studiare e dopo finita, adesso non è più così, adesso le cose cambiano, poi ci sono i MOOC, non so se ne avete mai sentito parlare, sono questi Massive Online Open Courses, le università di tutto il mondo mettono a disposizione questi corsi, il MIT, che è una delle più famose, Massachusetts Institute of Technology e altre, Harvard e così via, dove gratuitamente potete andare a cercare, cercate MOOC e vedrete che ci sono dei corsi che vi insegnano delle cose incredibili, anche perché nel mondo la tendenza è quella non più di avere la laurea, il master, ma il cosa sai fare, allora si possono imparare delle cose verticali molto, molto, molto importanti.